Musica Contratte di solidarietà alla Stellantis di Termoli c'è la firma da lunedì 11 novembre fino ad agosto 2025. Clinicamente morto il carabiniere della provincia di Sernia che si è sparato alla testa in caserma con la pistola d'ordinanza. In sciopero oggi a Roma il settore dei trasporti ad aderire anche i sindacati del Molise. Rubavano in negozi aziende del Basso Molise poi festeggiavano con fiumi di champagne, sei arresti tra Puglia e Abruzzo. Irene studentessa d'arte arrivata a Venafro dall'Austria per studiare il monumento dedicato all'Urso Wojtek. Ben trovati cari telespettatori all'appuntamento con l'informazione di TV Molise. È stato sottoscritto il contratto di solidarietà per quasi mille in lavoratori dell'unità Fire della Stellantis. Sono 887 in tutto. A partire da lunedì 11 novembre scatterà questa misura che durerà fino al primo di agosto 2025. Ma ci dice tutto il nostro Gerardo De Luca. Stellantis ha ancora un duro colpo per i dipendenti dello stabilimento di Termoli. È stato sottoscritto il contratto di solidarietà per 887 lavoratori dell'unità Fire a partire da lunedì 11 novembre fino al primo di agosto del 2025. La decisione è stata presa al termine di una riunione tra la direzione del personale e le segreterie territoriali dei sindacati. Il contratto di solidarietà prevede una riduzione delle ore di servizio dei dipendenti, distribuendo quindi il lavoro disponibile su più persone, al fine di evitare dei licenziamenti. I lavoratori riceveranno un'integrazione salariale per compensare in maniera parziale la riduzione dello stipendio. Il CDS è stato scelto come misura per fronteggiare la costante riduzione della domanda di motori prodotti nell'unità Fire, che non risponde più alle caratteristiche richieste per la commercializzazione. I sindacati, in seguito all'adozione del contratto, hanno avanzato la richiesta di programmare degli incontri trimestrali con la direzione della Stellantis di Termoli, per monitorare l'utilizzo del CDS e l'andamento della produzione. Senza dubbio, l'adozione del CDS è un modo per evitare immediati esuberi, ma il clima all'interno dello stabilimento resta molto teso. La decisione è arrivata infatti qualche mese dopo il definitivo naufragio del progetto della Gigafactory per lo stabilimento termolese. Adesso, con l'introduzione del contratto di solidarietà, aumentano le paure dei dipendenti di una riduzione progressiva delle attività lavorative. E proprio la crisi di Stellantis di Termoli si ripercuote drammaticamente su tutto l'indotto alla Sata di Pozzilli. Ormai si lavora, pensate, solo due giorni al mese. La preoccupazione di Leopoldo, uno dei 50 operai. Leopoldo è un operaio della Sata di Pozzilli. Lo abbiamo sentito altre volte, anche perché è impegnato nel sindacato e presidente di un'associazione culturale a Venafro. Insieme ai suoi colleghi, in tutta una cinquantina, da mesi lavora poche ore al mese. Nell'azienda della Galassia Stellantis le commesse si stanno esaurendo. La crisi che attanaglia l'intero settore dell'automotive rende quasi un miraggio trovarne delle altre. Che aria tira alla Sata di Pozzilli? Un'aria sempre più triste e pupa. Vi dico soltanto che da settembre, in solidarietà, ci sono parecchie persone che stanno al contratto di solidarietà 4 ore a settimana. In totale lavoriamo due giorni al mese. In questi settembre e ottobre l'azienda è anche provveduta a chiudere una settimana con il blocco completo dell'attività produttiva. Quindi è una situazione che si fa sempre più delineando in scenari tragici. Questa settimana addirittura stanno andando avanti un turno solo, sui solo turno di mattina. È arrivata oggi la notizia che Volkswagen chiederà tre stabilimenti in Germania e la Volkswagen non ha mai licenziato nessuno. Stellantis è già da un po' che è in fuga dall'Italia. Adesso c'è questo fatto della transizione che non decolla e abbiamo visto anche con la Stellantis di Terme. La proprietà cosa dice e cosa vi dice? Attendiamo gli eventi. Non c'è niente perché loro non hanno mai diversificato la produzione, hanno puntato tutto su un unico stabilimento. Quindi giustamente viene a mancare lo stabilimento per il Terme e per le commesse e viene a mancare tutta la produzione. Siamo tutte persone che hanno 50 anni e oltre, quindi si è troppo giovani per andare in pensione, ma troppo vecchi per essere collocati così lavorativamente parlando. Non è un bel sentimento. Vedremo cosa succederà e come si evolveranno gli eventi. Clinicamente morto il carabiniero originario della provincia di Sernia che ha tentato di togliersi la vita in caserma con una pistola d'ordinanza. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 6 novembre a Mortara in provincia di Paria dove il militare di 53 anni era arrivato solo pochi mesi fa per prestare servizio nella locale stazione. Con immediatamente soccorso dai colleghi il carabiniere è stato successivamente stabilizzato dal personale sanitario del 118 una volta intubato, trasferito d'urgenza in elisoccorso al Niguarda di Milano. Le sue condizioni sin dai primi istanti sono sembrate gravissime, disperate. Le circostanze che hanno portato al drammatico gesto sono al vaglio degli inquirenti e sono in corso accertamenti per fare luce sull'accaduto. Rubavano in negozi aziende del Basso Molise, poi festeggiavano con fiumi di champagne, blizze dei carabinieri che ha fatto finire per così dire la festa, sei arresti tra Puglia e Abruzzo, Antonio Leone. Festeggiavano la riuscita dei colpi con fiumi di champagne, anch'esso rubato in diverse attività commerciali del Basso Molise. E' uno dei particolari emersi dall'attività di indagine che le scorse ore ha portato all'arresto di sei persone, due le misure cautelari in carcere e altre quattro i domiciliari. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti. In totale sono dieci le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Larino su richiesta del procuratore Ilvira Antonelli, che ha coordinato l'attività investigativa portata avanti dai carabinieri della compagnia frentana. Si tratta di italiani tutti residenti nel Foggiano, tranne uno che invece è di origine abruzzese, alle prime luci dell'alba è scattato il blitz in Puglia e nel Pescarese e che ha visto impegnati oltre 30 militari dell'arma, oltre a quelli di Larino, anche l'ausilio dei comandi di Foggia e di Montesilvano. Il nome dell'operazione è Champagne, a seguito del rituale cui erano soliti malviventi e che è stato scoperto dai carabinieri. In un arco temporale che va dal marzo 2023 al febbraio 2024, gli indagati avrebbero sottratto generi alimentari, fitofarmaci e altro materiale da aziende agricole, esercizi commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso, rubato persino un piccolo escavatore, valore complessivo della merce. Oltre mezzo milione di euro, tutti gli appartenenti all'associazione, a delinquere, avevano compiti ben definiti dopo un sopralluogo iniziale. Una volta messo a segno il colpo, rientravano nel Foggiano per spartirsi il bottino e festeggiare con vino e Champagne. Le indagini sono partite dalla denuncia di una delle vittime che aveva riconosciuto la sua bicicletta, sottrattagli qualche tempo prima, in vendita su un sito web. Dopo la segnalazione è partita una lunga e difficile attività da parte degli investigatori, pedinamenti, sequestri e intercettazioni, fino a quando il cerchio si è chiuso attorno alla banda dello Champagne al momento dell'interrogatorio di garanzia. Tutti gli indagati si sono avvarsi della facoltà di non rispondere. Dallo Champagne all'acqua, allarme siccità, cala di 81 milioni di metri cubi in un anno, la portata del lago di Occhito. La rilevazione è stata eseguita dal Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia. La disponibilità di acqua attuale è di circa 3,5 milioni di metri cubi, 10 milioni al di sotto del cosiddetto volume è morto. Il nome e la denominazione è tutto dire. In sciopero oggi a Roma il settore dei trasporti, la segretaria della Will Molise, naturalmente stiamo parlando di Tecla Boccardo. Quanto sta accadendo nel settore del trasporto è un problema che coinvolge tutto il paese, in particolare il Molise, la nostra regione. Dopo gli scioperi del settore industriale pubblico, oggi a mobilitarsi a Roma, davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è chi lavora nel settore del trasporto per chiedere il rinnovo dei contratti e il recupero del potere d'acquisto degli stipendi. Uno dei motivi dello sciopero, affermano dalla Will, è dovuto ai ritardi e alle incertezze nelle fasi di confronto e trattativa per il rinnovo contrattuale che rischiano di bloccare e aggravare la situazione economica dei lavoratori. Anche la segretaria della Will Molise, Tecla Boccardo, ha voluto dire la sua sulla situazione. Siamo molto preoccupati per la situazione complessiva di contrazione occupazionale e di insoddisfacenti risposte finora date ad un settore strategico per la mobilità delle persone, afferma la segretaria. Quanto sta accadendo nel settore del trasporto locale, sia dal punto di vista infrastrutturale che contrattuale, è un problema che coinvolge tutto il paese e che investe trasversalmente tutti, in particolare il Molise, in cui i tagli alle linee ferroviarie e la mancata riorganizzazione strutturale del servizio di trasporto pubblico determina sprechi e inefficienze. Un Molise, insomma, conclude la Boccardo, sempre più tagliato fuori dalla continuità territoriale e dall'alta velocità. E a Trivento Comune, dove si è votato lo scorso mese di giugno, non si tornerà alle urne. Il Tar ha infatti respinto, giudicandolo infondato, il ricorso elettorale che era stato presentato da un cittadino elettore. Quest'ultimo chiedeva l'annullamento di tutte le operazioni di voto che avevano portato alla elezione del sindaco Luigi Pavone e alla sconfitta dell'uscente Pasquale Corallo. Cultura e lavoro per contrastare la violenza di genere, la violenza sulle donne, dal convegno promosso dalla CIS, numeri preoccupanti sulla situazione nella nostra regione. Cultura e lavoro è questo il binomio per contrastare la violenza sulle donne. Se ne è parlato al Museo Paleolitico di Sernia, che ha ospitato un convegno organizzato dalla CIS Labruzzo Molise, a cui ha fatto seguito una tavola rotonda con la partecipazione, tra gli altri, anche dell'onorevole Elisabetta Lancellotta e della dirigente dell'ufficio scolastico regionale, Maria Chimisso. In Italia ancora oggi c'è un enorme divario di genere nel mondo del lavoro. Le donne troppo spesso devono fare conti con discriminazioni e con il famoso soffitto di cristallo che non permette loro di ricoprire ruoli di vertice all'interno delle aziende private, ma anche nella pubblica amministrazione. È da questi aspetti di natura culturale che bisogna partire per contrastare un fenomeno sempre più dilagante, sia in ambito familiare che lavorativo. Necessari maggiori strumenti di contrasto per questo motivo, dal sindacato l'appello al governo nazionale affinché inserisca nella manovra finanziare i fondi necessari. La ricetta è sicuramente partire dal lavoro, perché il lavoro dà la possibilità alle donne di poter denunciare il proprio aguzzino, dà la possibilità alle donne, come è giusto che sia, di realizzarsi, ma dà anche la possibilità al nostro paese di crescere, perché più donne nel mercato del lavoro farebbero aumentare il PIL. È importante però far rimanere le donne nel mercato del lavoro, perché sappiamo che una su cinque dopo la nascita del primo figlio abbandona il proprio posto di lavoro. Per quanto riguarda il Molise, i dati parlano chiaro nella nostra regione, il numero delle donne che lavorano è al di sotto della media nazionale, anche per quanto riguarda la violenza di genere, casi in netto aumento negli ultimi anni. Qui l'incidenza delle donne nel mondo del lavoro è sicuramente più bassa, ma stiamo anche in condizioni di lavoro precario, dove soffrono tutte le categorie, ma in maniera particolare soffre ancora di più la componente femminile. Ecco perché noi riteniamo che bisogna che ci sia una certa cultura diffusa e che il lavoro possa essere l'elemento che contribuisce non solo all'emancipazione della donna in quanto tale, ma un po' di tutta la società. Il Comune di Campobasso ha intitolato il largo all'incrocio tra Via Manzoni e Via Scardocchia la giornalista Rai Ilaria Alpi, uccisa 30 anni fa a Mogadiscio in Somalia con il suo operatore Miran Rovatin. In proposito, sentiamo Francesco Adamo. 30 anni fa veniva uccisa a Mogadiscio la giornalista della Rai Ilaria Alpi con il suo operatore Miran Rovatin. La città di Campobasso ha intitolato ieri alla giornalista e al suo operatore il largo all'incrocio tra Via Manzoni e Via Scardocchia, la targa scoperta dalla sindaca Maria Luisa Forte. La sindaca Forte nel suo intervento ha ringraziato la precedente amministrazione che in Commissione Cultura ha deciso l'intitolazione di questo luogo a Ilaria Alpi. Un tragico fatto di sangue che ancora non ha chiarito tutti i suoi aspetti. Ilaria Alpi ha pagato con la vita perché il modo peggiore per infrangere l'articolo 21 della nostra Costituzione è tacitare chi è che cerca di raccontare attraverso la morte. Questo è successo a Ilaria 30 anni fa, a Ilaria insieme a Miran Rovatin, ricordiamo che erano insieme in Somalia e questo purtroppo continua a succedere in tanti altri casi. Ricordiamo solamente recentemente in quello che è il conflitto in corso a Gaza, tra Israele e Gaza, il più alto numero di giornalisti uccisi della storia. Credo che l'avere in mente qual è il ruolo e il compito c'è un altro grande rischio nel mondo della informazione che non è quello di rimanere uccisi e questo è un rischio e l'abbiamo detto, ma è quello di non fare fin in fondo il proprio mestiere e di andare dietro un po' a quelli che sono gli ordini del potere di turno e quindi in questo caso quel quarto potere o quel cane da guardia che è il compito principale viene un po' a mancare e questo oggi forse è un bisogno che è ancora più urgente di 30 anni fa quando Ilaria è stata uccisa. Questo fine settimana l'ordine dei medici e dei chirurghi della provincia di Sernia torna al voto l'obiettivo, il compito, quello di rinnovare il consiglio direttivo. Antonio Leoni ancora. Gli iscritti all'ordine provinciale dei medici, chirurghi e degli odontoiatri di Sernia si preparano a votare per il rinnovo del consiglio direttivo. Le urne saranno aperte sabato 9, domenica 10 novembre dalle 9 alle 18 e lunedì 11 novembre dalle 9 alle 15. Un appuntamento cruciale per circa 800 professionisti della provincia chiamati a scegliere i rappresentanti che guideranno l'ordine fino al 2028 per questa tornata elettorale. In corsa c'è una sola lista capeggiata da Fernando Crudele, presidente uscente, che intende proseguire il percorso intrapreso negli ultimi anni. Affinché le elezioni siano valide, è necessario il raggiungimento del quorum di due quinti dei votanti. Diciamo che abbiamo una lista contro che si chiama quorum. È del quorum che già parte da 287 voti, perché dobbiamo superare 288 voti. E non è facile in una piccola regione, in una piccola provincia, ma orogeograficamente molto dispersiva e molto lontani. E quindi dobbiamo, sto cercando di convincere tutti i medici che pur essendo una sola lista abbiamo questo quorum da superare. Quello che noi ci prefiggiamo, come dicevo, è chiaramente una continuità, stare accanto ai medici, a tutti gli operatori, essere interlocutori della politica e delle altre associazioni. Basta dire che praticamente in questi ultimi anni abbiamo svolto nella nostra sala qui accanto tantissimi convegni. L'altro è quello di dare assistenza ai pazienti, sapere che qui c'è sempre la porta aperta per sapere se questi medici si comportano e si devono comportare secondo deontologia etica, quale sarebbe il nostro campo di azione. Certamente non andiamo né sul civile né sul penale, ma per quanto riguarda la deontologia noi ci siamo e saremo sempre presenti. La dea bendata guarda al Molise, infatti nell'estrazione dell'otto tenutasi ieri sera a Monte Roduni sono stati vinti quasi 26 mila euro. È presentato questa mattina nella sala della biblioteca di Palazzo d'Aimmo a Campobasso il convegno dal tema il gaslighting, ovvero come difendersi dalla manipolazione mentale. Il gaslighting o manipolazione psicologica è una forma di manipolazione nella quale vengono presentate alla vittima farse informazioni con l'intento di farla dubitare addirittura di se stessa. Sul delicato tema il lavoro della Commissione Generale per le pari opportunità della Regione Molise è stamani la conferenza di presentazione del convegno che sitterà il prossimo 14 novembre. I ringraziamenti per il lavoro che viene svolto dalla Commissione, dalla Presidente, da tutti i componenti, davvero stanno svolgendo un ruolo tradizionale. Si esplorano anche i campi nuovi, tipo quello di cui appunto c'è stata la presentazione e per il quale Molise potrebbe favorevolmente accogliere una proposta normativa e potremmo essere la prima Regione che esplora questo campo, quindi davvero molta soddisfazione. Abbiamo già avviato una serie di attività, questa è soltanto la prima che darà seguito poi anche come oggi è venuto fuori dalla conferenza stampa ad un intervento consultivo normativo per quanto riguarda il tema del gaslight e quindi della manipolazione mentale, ma già il 29 novembre, questo come sapete è un mese dedicato particolarmente sensibilizzante per la questione femminile e le donne, il 29 novembre avremo ospite a Benafro Pietro Orlandi che si rivolgerà alle scuole e quindi sensibilizzeremo le nuove generazioni alle tematiche della denuncia del contrasto alla violenza di genere, in particolare poi a un tema al quale sono molto legata, collaboreremo ad un filone che riguarda la medicina di genere e stiamo già lavorando a una serie di incontri dedicati al tema della fibromialgia. Fervono i preparativi ad Agnone per gli eventi del fuoco previsti a dicembre, anche quest'anno in programma tre appuntamenti, si parte il 7 dicembre con la terza edizione della festa dei fuochi rituali, poi il 14 e 24 dicembre torna il rito del fuoco più grande al mondo, ovvero neanche a dirlo la docciata. Irene, studentessa d'arte, è arrivata a Benafro dall'Austria per studiare il locale monumento dedicato all'Urso Wojtek, ebbene noi l'abbiamo incontrata. Irene ha un sorriso e una vitalità contagiose, è austriaca, vive a Innsbruck dove studia presso la facoltà d'arte. Sta realizzando una tesi sui monumenti d'Europa dedicati all'Urso Wojtek, la mascotte dell'esercito polacco stanziato a Benafro nel corso della guerra. La incontriamo proprio qui, alle porte della città, davanti all'opera dedicata all'incredibile Wojtek. Irene, cosa ci fai qui? Io sto facendo la mia tesi sull'Orso Wojtek e i suoi monumenti, in realtà sono tre monumenti che ho scelto io, perché sono tre monumenti così diversi, per questo sono stata già a Edimburgo, ora sono qua a Benafro e dopo vado a Immola. Cosa ci puoi dire dal punto di vista artistico su questo monumento? Ma questo monumento secondo me è proprio un monumento molto speciale, perché ci sono due livelli, dietro c'è il murale, c'è un livello di questo, abbiamo un secondo livello dove c'è la stamma della 22esima compagnia polacca, quindi è molto particolare quello. E il monumento di Benafro si deve all'opera di due associazioni culturali del posto, Centro Studi Politici e Winterline, impersonate rispettivamente da Lello Castaldi e Luciano Bucci. Entrambi hanno accolto in città e supportato Irene nella sua ricerca. Marina, tu sei qui da qualche giorno, non tantissimo, ma hai avuto il tempo di vedere Benafro, quale impressione ti ha fatto la città? La città secondo me è proprio bellissima, perché io essendo da Linsbruck, tra le montagne mi sento come a casa qua, è proprio bello. A proposito di sentirsi a casa, anche perché tu parli perfettamente italiano, come mai? Io prima ho studiato a Bolzano, ho fatto la facoltà di arte e design, ho vissuto anche in Sicilia per un bel po', e ora sto facendo la mia tesi con la mia professoressa Anna Schobar de Graff, che è una persona molto importante ricordando il mondo della cultura visuale. Insomma, la storia dell'Orso Voitec e il monumento qui a Benafro diventerà sempre più conosciuto anche grazie al lavoro che sta svolgendo Irene. Grazie. Grazie. E a proposito di ringraziamenti con Irene e l'Orso Voitec, è proprio tutto, grazie per essere stati con noi, spazio ora alle news dall'Abruzzo. Grazie.